Era nato con la seconda repubblica francese e aveva svettato in salute lungo tutto il secolo breve, passando indenne due conflitti mondiali. Oltre 200 anni di vita per l'olivo abbattuto in un parco di mentone in costa azzurra, stessa sorte per altri due olivi eradicati e bruciati perché colpiti dalla Xylella, il batterio killer che sta devastando la Puglia e che minaccia l'Europa come una piaga biblica. Non si abbattono alberi secolari come quello con piacere, si fa davvero con dolore, ma bisogna farlo, è per preservare il resto del patrimonio. Il batterio della Xylella fastidiosa è spietato, entra nella linfa della pianta e l'asciuga completamente. Attualmente non esiste una cura e c'è il rischio reale di diffusione dell'epidemia. In Italia e soprattutto la Puglia pagare il tributo maggiore alla Xylella. In dieci anni i numeri fotografano una situazione drammatica, 21 milioni di olivi infetti e 1 miliardo e 200 milioni di danni, 5 mila posti di lavoro andati persi. In questi giorni col diretti Puglia ha denunciato altri 43 alberi infetti nelle province di Brindisi e Taranto. Solo l'anno scorso l'epidemia di Xylella ha causato il crollo nella produzione di olio d'oliva pari al 60%. La Corte di Giustizia Europea ha condannato l'Italia per non aver rispettato i dettami della Commissione, cioè monitoraggio ed eradicazione degli olivi nelle zone in cuscinetto a confine con l'aria infetta.